Quattro condanne, di cui tre all'ergastole, una a trent'anni di reclusione, sono state inflitte dalla Corte d'Assise Nissena e gli imputati, considerati di aver avuto ruoli diversi nell'omicidio del gelese Giuseppe Failla, ucciso a colpi di pistola la mattina del 9 ottobre 1989. Il carcere a vite è stato inflitto al boss Giuseppe P. Dumadonia, 76 anni, al San Cataldese Cataldo Terminio, 66 anni, e al Nisseno Angelo Palermo, 65 anni. Trent'anni la pena per il gelese Angelo Bruno Greco, di 54 anni. Giuseppe Failla aveva 51 anni quando fu ucciso, mentre si trovava nel suo bar in via Cadorna, a Gela. Il delitto, secondo la ricostruzione della procura, si inserirebbe nella faida tra Cosa Nostra e Stigia, che insanguinò il territorio della provincia Nissena negli anni Ottanta, e Cataldo Terminio avrebbe ritenuto Failla, considerato affiliato a un clan rivale, responsabile dell'omicidio del padre Nicolò Terminio e voleva vendicarlo. Una volta ottenuto, sempre secondo l'accusa, l'ok di Madonia, Terminio avrebbe chiesto aiuto a Greco, il quale avrebbe sparato i colpi contro la vittima, mentre Angelo Palermo avrebbe fatto da autista. Il corpo di Failla venne trovato da alcuni clienti del bar.